buongiorno e buona giornata a tutti voi cari amici del vostro nicole del uccia purtroppo siamo qui a parlare di un'altra dell'ennesima sconfitta dell'olimpia milana e basta un gas del barcellona per 84 ad 80 in una partita dove per esempio nel primo periodo comunque sono stati vantaggi padroni di casa nel secondo si è alternato un vantaggio milanese con la chiusura del primo tempo sul 36 a 45 in favore di milano terzo equilibrio prima vantaggio di milano poi barcellona nel quarto arrivati poi su 76 77 se un po spenta milano milano che con questa sono due sconfitte di fila 4 nelle ultime 5 quindi sono cavoli amari ebbene sì il bar se invece nelle ultime 5 ha proprio cinque vittorie milano a 11 vinte e 13 passi barcellona 18 vinte e 6 passi milano che il 20 febbraio tornerà in casa milano giocando con la diretta concorrente per un posto al sole playoff kim kim os che lì cari ragazzi dovete dovete vincere per forza basta perdere il barcellona il 21 febbraio si recherà in terra greca in casa del pana di nekos che è sesta al momento con 13 vinte e 10 passi quindi chiudiamo il video ribadendo milano perde la sua quarta partita in cinque gare in casa del barcellona per 84 80 salute a tutti quindi